Ciao a tutti, eccoci qua per un altro video, questa sarà una nuova puntata delle idee per lo shopping Allora, chi mi segue da poco non sa bene cosa sia questa serie Le idee per lo shopping sono essenzialmente un video di, non preferiti, una sorta di preferiti diciamo Però con, inclusi anche altri prodotti tipo, ne so, vestiti, cose del genere, prodotti per capelli, per il corpo, non per forza make up E quando posso vi do anche delle chicche sui negozi, sui siti online, se ci sono delle promozioni, cose del genere E niente, cominciamo subito E cominciamo con un prodotto con cui mi sto trovando benissimo, del Fix It di The Natural Face Sarebbe uno spray fissante per il trucco, quindi potete dare due spruzzatine a fine trucco e il trucco resiste di più Quindi tipo il Fix Plus della MAC Oppure potete usarlo per bagnare il pennello, ad esempio, nel caso in cui volete applicare un ombretto bagnato Quindi mi ci trovo benissimo Questa è la confezione da due oz Penso che funzioni bene, non ha un odore particolare, non ha neanche una sensazione di appiccicaticcio Lascia comunque una sensazione di fresco Mi piace e credo che sicuramente lo ricomprerò Anche lo spruzzino, sapete a volte quando comprate gli spray per fissare il make up Magari le goccioline non escono proprio bene Quindi vi rimane magari una chiazza bagnata Invece questo è uno spruzzino che vaporizza molto, diciamo E quindi, non lo so, l'effetto finale mi piace molto E ve lo consiglio Il secondo prodotto è un prodotto per capelli Con cui mi sto trovando benissimo Ed è l'olio di cocco puro Allora, l'olio di cocco puro è solido Lo vedete, adesso è solido perché fa freddo Però in teoria se voi lo mettete sul riscaldamento O se lo mettete per esempio, quindi sul termosifone O su vicino a una fonte di calore Si scioglie perché tipo a 18 gradi mi sembra diventa liquido E diventa semplicemente un olio in colore proprio, trasparente E lo potete usare per tantissimi usi diversi Io in questo periodo lo sto usando per i capelli Come impacco per shampoo Funziona benissimo e credo sia il migliore impacco per shampoo Che abbia mai provato Io lo applico praticamente a partire da questa parte, diciamo, dei capelli In giù, fino alle punte Soprattutto insistendo sulle punte Perché sono le parti più secche, diciamo, che necessitano di una maggiore idratazione Evitando di metterlo sulle radici perché sennò ingrassano troppo E' veramente buono Perché fa un effetto proprio idratante Cioè mi sento i capelli molto più sani Io lo lascio su un paio d'ore Se posso anche 3-4 ore E poi mi lavo i capelli normalmente Si leva molto facilmente Non è uno di quegli oli che si appiccicano e rimangono radicati Si leva facilmente con un paio di shampoo E appunto dopo i capelli sono nutriti Sono belli, sono luminosi Mi piace molto come impacco per shampoo Ve lo consiglio E poi potete usarlo anche per altri usi Per dire come, non lo so, lo potete usare in cucina Infatti questo l'ho comprato proprio in un negozio Che vende in realtà generi alimentari Oppure potete usarlo anche come struccante E' ottimo come struccante E poi è un olio vegetale Quindi non fa male alla pelle Se volete usarlo per esempio sulla pelle Come anche idratante, cose del genere Non fa male E dovete stare attenti a comprare l'olio di cocco puro E come vi accorgete Questo vedete Pure Coconut Oil Vi rendete conto perché appunto L'unico ingrediente è l'olio di cocco E appunto il fatto che sia solido E' testimonianza che è autentico Altrimenti se ci aggiungono altre schifezze Magari diventa liquido Sempre liquido Però non è olio di cocco puro Io l'ho comprato appunto in un negozio del genere alimentare Che è questa Roma Che si chiama Castroni E vende tutti i prodotti da tutto il mondo E' bellissimo E l'ho pagato 2,50 euro Per 250 ml So che anche altri negozi lo vendono Per esempio la saponaria E quindi potete trovarlo poi Nei negozi etnici Sì nei negozi etnici Appunto nei negozi alimentari Che vendono prodotti da tutto il mondo Oppure le potete trovare in erboristeria Eccetera Però lì vi costa un po' di più Se invece andate a spulciare Diciamo nei mercatini etnici Eccetera Lo trovate a meno E niente Questo è l'olio di cocco E' anche economico Perché solitamente gli oli vegetali costano tanto Invece questo appunto costa poco Ed è veramente efficace Poi un altro prodotto In realtà è un po' comico Perché andavo in giro Un po' di tempo fa Per i negozi cinesi Ho aperto un cinese Dove abito io Un negozio cinese enorme Cioè voi non potete capire Quanto è grande Io penso Di non aver mai visto Un cinese così grande Cioè la roba che se uno entra là Ci si perde Rimani tipo le ore A cercare Poi ti rendi conto E dici Ma che cacchio ho fatto Dove vorrei Dentro i negozi cinesi Però uno smette la spulcia Ma ha di tutto E ha una parte enorme Tipo di nail Di nail art Quindi Smalti Gel UV Pennelli per la nail art Glitter E ha anche questi pennelli Che sono Nella linea Diciamo Della nail art Perché sono sintetici Vedete E questo è un pennellino Favoloso Perché guardate È un pennellino Angolato preciso Per il gel Per gli eyeliner in gel E l'ho pagato Un euro Quindi vi rendete conto Insomma Del risparmio economico Però è un ottimo pennello Devo dire Funziona veramente bene Guardate È tagliato bene Eccetera Quindi vi consiglio Di andare a vedere Appunto le sezioni Per unghie Nei negozi di cinesi Perché hanno delle Grandi sorprese Da regalarvi Quindi questo era L'altro prodotto Poi per quanto riguarda I vestiti Ho comprato Ultimamente Quindi vabbè Abbigliamento Diciamo Come scarpe Ho comprato Ultimamente Gli stivali Hag Che per chi non li conoscesse Mi allontano Sono questi qua I mammutoni E Li ho presi Su internet Cioè in realtà Diciamo Su internet Su ebay E Sono originali Per capire Se sono originali Devono avere Tutta una serie Di caratteristiche Vedete Devono avere Il marchio dietro Devono essere Molto imbottiti Perché vedete Quanto sono imbottiti Questi Tanto Poi insomma Le cuciture Devono essere Particolarmente Fatte bene Cioè dovete stare Molto attenti A non prendere Falsi su internet Anche il sotto Deve essere Deve avere Queste Scannalature Così Insomma Ci sono una serie Di accorgimenti Se volete Comprarli su internet Io li ho presi Su ebay Da un venditore privato Li ho pagati Pensate Originali 120 euro Che è pochissimo Perché tipo Se comprate Gli ag Al negozio Vi costano Una cosa Tipo 250 euro A me piacciono moltissimo Perché non tanto Per la linea Perché comunque Esteticamente Non sono bellissime Però perché io Ho sempre fredda i piedi E questi fanno Un calore eccezionale Infatti penso che va Tipo li consigliano Per chi va Tipo a meno 20 Cose del genere A temperature molto fredde Perché appunto L'interno È Imbottito In modo da resistere Alle temperature Eppure estreme Appunto poi ci sono I certificati All'interno della scatola Mi hanno dato proprio La scatola Originale E E Questo modello Qui che ho preso È il Toll Toll Perché appunto Sono quelli alti Poi ci sono anche Quelli più bassi E la mia Taglia È il 6 E il colore Il sand Sabbia E sono Veramente buoni Mi ci trovo davvero bene E Praticamente Il Ship skin Ship skin Pelle di Pecora Mi pare che L'interno era tipo di Montone Una cosa del genere Dovete stare attenti Appunto Agli acquisti su internet A vedere bene Che prendete gli originali Però Se voi spulciate bene Su internet Riuscite Soprattutto su ebay Riuscite a trovare Delle grandi occasioni Tipo la mia Se invece andate al negozio Ragazzi Vi caricano Centinaia di euro Sopra Tipo 100 euro Inevitabilmente Andate a spendere Un botto di soldi Però Secondo me 250 euro Assolutamente Non li valgono Un centinaio di euro Però si possono spendere Perché comunque è vero Resistono proprio Alle temperature Più estreme Sono caldi Sono belli Sono morbidi Mi piacciono molto E Io ho preso la taglia 6 Che sarebbe la C'è scritto 37 Io in realtà porto 36 37 Quindi se volete fare Un riferimento Questo è quanto E appunto Ve li consiglio Quindi andate a spusciare Su internet E poi Un altro acquisto Recente Sono questi orecchini Che mi sono piaciuti molto Li ho prese All'OVS Se ci fate caso L'OVS Ha sempre Degli stand Di bigiotteria E gioiellini Cose varie Molto carini E sono questi Qua Tipo Vedete Viola con i glitter Li ho messi a capodanno Insomma Per le occasioni Un po' particolari Però Mi piacciono Sono veramente carini Soprattutto se faccio La quota Quindi andate a vedere Un po' gli orecchini Le collanine A me piacciono Sinceramente Mi ci trovo bene Costano poco L'ho pagata di tipo 4 euro Invece di andare Da accessorize E cose del genere Che vi sparano Prezzi tipo 20 euro Per un po' gli orecchini Sono carini Però Che alla fine Non è che durano tanto Perché non è che sono Di qualità Appunto Io preferisco andare A cercare Negozi alternativi Poi un altro Prodotto Di make up È Un pennello Che ho comprato Di recente Dal sito Della sigma Make up Ed è un pennello Per ombretto Si chiama Lo short shader brush E 20 Ed è Il pennello Per ombretto Che ho sempre cercato Perché praticamente Vedete quanto è corto Sopra È fatto apposta Per mettere L'ombretto Sotto l'occhio Io avendo le ciglia Io avendo le ciglia Super lunghe Mi trovo sempre In difficoltà A mettere Vedete L'ombretto sotto Perché qualsiasi Pennello Da ombretto È lungo E quindi mi sbatte Sulle ciglia Invece questo Vedete Va sotto Precisamente E consente Di mettere L'ombretto In modo Molto preciso Ed è Veramente Fantastico Cioè Penso sia Il Proprio Il pennello Che cercavo Quindi ve lo consiglio Se cercate qualcosa Del genere I pennelli della sigma Sono veramente ottimi Quindi buonissimo E per finire Un mascara Con cui mi sto trovando bene Ed è Sempre del L'ho comprata all'OPS Ed è della essence Ed è il multi Action mascara Ce ne sono due Mi sembra Uno rosa E uno verde Tipo E questo qua Ha lo scovolino Così Ed è buono Perché Certo non è favoloso Nel senso anche Questo ha dei difetti Però l'ho pagato pochissimo Tipo 3 euro Ragazze Ed è quello che ho su adesso Vedete Le ciglia Comunque me le fa Belle Le ciglia Comunque me le fa Molto belle Vedete Me le fa Voluminose È un bel nero È un pochino Grumoso E tende un pochino A calare Però a parte questo È un buon mascara Fatemi sapere Se volete una recensione Specifica Su questo prodotto Però se cercate Un mascara economico Sia volumizzante Anche un po' allungante Che non costi tanto Secondo me È un Un buon mascara Appunto Fatemi sapere Se volete una recensione Specifica su questo E ve la faccio E queste sono tutte Le mie idee per lo shopping Spero che vi siano piaciute E ci vediamo alla prossima